In palio punti salvezza nel match di Martinsicuro tra Alba Adriatica e Sulmona, agli ordini del signor Di Cicco della sezione di Lanciano. Il primo tempo è un monologo dell'Alba, oggi chiamato a fare bottino pieno, orfana di Antonacci ma che alla ripresa del campionato potrà contare su Arcamone, Liguori e Iachini. Passano solo 50 secondi, i padroni di casa mettono i brividi a Carosa che si salva come può. Al diciannovesimo i rosso-verdi provano lo schema su calcio d'angolo, la conclusione di Calvaresi che non inquadra la porta. Un minuto più tardi interessante combinazione tra Cicconi e Di Massimo, Carosa in uscita sventa il pericolo. L'estremo ovidiano è ancora provvidenziale al ventitresimo, chiudendo la strada a Massetti, poi Ruscioli spara alto da due passi. Al ventisettesimo Carosa ancora reattivo sul diagonale di Massetti e dopo tante occasioni spregate al quarantaduesimo arriva il meritato vantaggio al Benze. Ad opera di Cicconi che in mezzo all'area piccola raccoglie il traversone di Ruscioli e di finezza supera Carosa. Ad inizio ripresa doppio cambio nel Sulmona, mister Di Marco Antonio getta nella mischia Reale Cavasini nel tentativo di dare una scossa ai suoi. Al sesto schema su calcio piazzato dell'Alba al tiro di Massimo che alza troppo la mira. Al decimo il Sulmona su punizione mette in difficoltà Masi costretto in angolo e sul corner successivo il neoentrato Cavasini tutto solo svette in aria e supera l'estremo di casa pareggiando il conto. Torna così l'equilibrio in mezzo al campo con il Sulmona che sembra prendere coraggio anche se i rossoverdi seppur con minore intensità rispetto al primo tempo continuano a farsi vedere più spesso nella metà campo avversaria senza però riuscire a concretizzare. Al quarantaduesimo così come è accaduto nel primo tempo arriva l'episodio chiave che decide la gara. E ancora Cavasini protagonista il numero 13 del Sulmona entra in aria e va giù dopo il contatto con Arietti. Di Cicco è deciso e fischia il rigore. Sul dischetto va Campanella che non sbaglia e porta in vantaggio il Sulmona per la gioia del presidente Di Girolamo seduto in tribuna. E così la squadra bianco-rossa conquista il primo successo in campionato una grossa iniezione di fiducia in vista del 2015. Oggi i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e non solo questa dedica di questa vittoria va alla società che ha fatto grossi e sta facendo grossi sacrifici in primis con Giovanni Di Girolamo ma anche io la dedico a loro stessi e ai ragazzi perché si sono sempre sacrificati con abnegazione. Auguro a tutte le società di questo campionato e a tutti i giocatori compresi i colleghi un augurio di buon Natale e felice anno nuovo compreso la Lega Nazionale di Lettanti.